I musici della provincia di Piedra I musici della provincia di Cuneo I musici della provincia di Piedra I musici della provincia di Piedra I musici della provincia di Piedra per aiutarti con questo posto, spiega questo video. Abbiamo voglia di continuare e di lavorare, di far conoscere tutti la nostra voglia di fare buona possibilità. Con questa parola vogliamo ringraziare centiparne nuovo alle soluzioni della Regione di Monte, tutti i sponsor, il Presidente Zaurano e tutti i dirigenti della mia regionale, i presidenti e i dirigenti delle istituzioni della mia regionale. Al Mestre di Transcripita della Ritani, al Mestre Riccardo Armai e al nostro amico direttore anche l'amico Paolo Bezori, che con la sua velocità di simpatia ci è stata recaricata e insieme alla sua pacchetta si è riusciti in foto prove ad essere trattati per buona cosiddetta. Noi stiamo già venuti, ma sappiamo chi, e come mi piace ricordare, per far sentire l'intenzione che lo capiamo e voler andare avanti tutti insieme. Ma siamo in tanti, ben certe 30. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.